Giorgio, perché oggi la deprestazione non era facile per Casal Maggiore, Novara, in generale ha girato veramente alla grande, prima ipoteca importante, ma forse in questa semifinale Scudetto si va a Palarati con la buona convizia, ma non abbiamo da questa sera il comandato la partita dal tuo punto di vista. No, era importantissimo per noi vincere stasera, vincere la prima in casa davanti a un pubblico così, quindi siamo contenti, è andata come volevamo anche dal punto di vista sia di gioco che di atteggiamento e di aggressività, quindi ci ha dato sicuramente grande fiducia nell'affrontare questa gara 2 e eventuale, speriamo di no, gara 3. Ecco, gara 2 si giocherà al Palarati, lontano dal pubblico di casa, quali saranno le convinzioni che voi dovete trovare nel corso di questa trasferta a vostri caparecola Maggiore sappiamo che in casa un giro alla grande? Sì, è un palazzetto difficile, però noi a parte il tifo, il giocare in casa, abbiamo fatto bene bene anche in campo, quindi comunque sia continuiamo a lavorare, anche in allenamento stiamo facendo bene, andiamo lì sicuramente più convinte e più sicure dopo stasera. Grazie.